Il ritardo diagnostico legato all'endemotriosi è in media di 7-10 anni. Per questo è fondamentale fare una corretta informazione e promuovere una sensibilizzazione di tutta quanta la cittadinanza perché il dolore mestruale cronico intenso non è un fatto normale. Il fatto che sia stata Agenas a proporre un progetto come questo è perché comunque Agenas ha nella sua vocazione l'attività di ricerca. L'endometriosi rappresenta la prima causa di dolore pelvico nella donna e è una patologia molto invalidante perché va a inserirsi e intrufolarsi in ogni sfera di vita di una donna. Il progetto interpreta esattamente quello che è il ruolo istituzionale dell'agenzia nel voler fare formazione su questo argomento perché ci siamo resi conto che forse non si conosce abbastanza di questa patologia. Di endometriosi se ne parlava poco, non si conosceva, ora se ne parla, forse se ne parla anche troppo e se ne parla male. La cultura provocatoriamente è l'unica vera arma per sconfiggere questa malattia. E questo chiaramente è un compito che hanno le regioni che devono appunto individuare delle reti di assistenza sul territorio. L'informazione sulla patologia la vogliamo fare in sinergia, in collaborazione e umilmente dicendo anche imparando molto da loro, dalle protagoniste, le persone che sono state accanto e che stanno accanto nella vita familiare alle protagoniste, alle donne. Siamo un'associazione di pazienti, in questi anni abbiamo riscontrato sicuramente un grande cambiamento culturale. A livello di coppia il dolore più grande appunto è la frustrazione. Frustrazione mista a paura di qualcosa che non comprendi, che non conosci e che non sai come gestire. Riuscire a captare la patologia molto precocemente significa avere molte possibilità in più per attuare delle strategie non invasive, cioè terapeutiche, per curarla. Se di endometriosi ancora si parla, ancora poco si parla, di quanto sia importante non dire a una donna che soffrire è normale e questo credo sia lo scoglio più grande che ancora oggi dobbiamo abbattere. La mia compagna si è spesso sentita dire che non aveva niente, che andava tutto bene. Noi stiamo insieme da nove anni, la diagnosi è arrivata solamente un annetto e mezzo fa. È importante ritornare a parlare correttamente della malattia, è importante che lo facciano le istituzioni supportate dal personale sanitario e dalle associazioni di pazienti. È importante imparare a raccontarsi. Il momento proprio della diagnosi lo abbiamo vissuto quasi come una liberazione perché finalmente si è dato un nome a quello che stava succedendo. Una buona diagnosi e un buon management strumentale della malattia ci permette di indirizzare la paziente verso una terapia adeguata, che questa sia medica che chirurgica. La potenza comunicativa enorme di questo progetto e di questa giornata oggi sta proprio nel fatto di riuscire ad entrare in questa filiera per permettere alle pazienti o alle ragazze adolescenti di essere molto più consapevoli della propria sintomatologia. È importante che la rete serva proprio a individuare l'ipotetico problema, se non riconosciuto, e indirizzare la paziente al centro di riferimento dove il problema può essere sviscerato e venire sostanzialmente a galla. Promuovere una corretta informazione sui sintomi dell'endometriosi e sulla presa in carico della paziente è fondamentale per poter arrivare a diagnosi precoci e a interventi più tempestivi possibili. Da qui nasce il progetto di un sito endometriosi.agenas.it dedicato alle pazienti dove la cittadina può trovare le informazioni sui sintomi, la diagnosi, i trattamenti disponibili e come accedere appunto al servizi sanitari.